Ricerca, conoscenza e diagnosi precoce, queste le parole chiave della giornata mondiale per la consapevolezza dell'autismo istituita nel 2007 dall'ONU. A celebrarla anche in Santa Croce di Fano, mediante un'iniziativa organizzata dal reparto di neuropsichiatria infantile. Hanno infatti invitato i bambini che seguono, di un'età compresa tra i 2 e i 13 anni, e le loro famiglie per un incontro con la direzione generale. La direzione la incontrano sempre i tecnici, gli adulti, invece ci sembrava importante che i bambini conoscessero il nostro direttore e che il direttore conoscesse più da vicino i nostri bambini. Fano è l'unica città italiana che ha un servizio pubblico con un team di esperti in grado di fornire riabilitazione basata sull'analisi del comportamento. Entriamo in un progetto sullo studio del genoma di famiglie che hanno due figli con disturbo autistico, o un figlio con un disturbo autistico e un altro disturbo di sviluppo, assieme ad altri centri italiani e a un gruppo giapponese. E poi l'altra novità è che stanno per partire due gruppi di sostegno alle famiglie. Essere genitore di un bambino con autismo richiede non solo forza, ma anche pazienza, curiosità e creatività. E come ci spiega la dottoressa Stoppioni, è fondamentale che le famiglie facciano parte del processo di cura dei loro figli. Finora loro veniva insegnato come fare a insegnare i loro bambini, ora abbiamo pensato di potergli riservare uno spazio proprio di sostegno. Secondo i dati segnalati dal Centro Americano per il Controllo delle Malattie per la Prevenzione, l'autismo riguarda un caso su 86 persone, ma con una differenza. Per le femmine si registra un caso su 250, mentre nei maschi uno su 60. Quali sono le difficoltà a cui vanno incontro le famiglie? La difficoltà di avere un bambino che sembra quasi un marziano, nel senso che sono bambini che non sono capaci di imparare spontaneamente nulla. Per cui esposti, come si fa in genere con gli altri bambini, a un ambiente naturale nel quale ci sono molti elementi di apprendimento, loro spontaneamente non apprendono. Quindi bisogna che questi genitori imparino a insegnare con modalità facilitate e facilitanti tutto ai loro bambini.